se accanto a lei e a Orban ci sarà un posticino anche per il nostro generale vannacci saluto per cominciare questa trasmissione questa puntata michele serra scrittore editorialista di repubblica ciao michele buonasera buonasera corrado buonasera a tutti allora michele cominciamo questa cavalcata di questo 23 24 assieme possiamo definire il generale vannacci il metra pensè di questa destra di governo spero di no spero che crosetto non rappresenti solo se stesso ma un crosetto e poi tutta forza italia che teoricamente dovrebbero rappresentare lo dicono sempre la destra liberale e quello che dà più fastidio devo dire è l'aria di fronda che hanno queste persone quando dicono cose che sono loro stessi poi confessano abbastanza di maggioranza no e loro parlano a nome di tutto sommato di luoghi comuni perché perché non bisogna essere troppo vecchi per ricordarsi che per esempio nella generazione dei nostri padri che magari erano anche brave persone però lo stigma nei confronti degli omosessuali era fortissimo quindi adesso scoprire che ripetere queste cose significa come dire ribellarsi alle lobby ribellarsi alla dittatura della minoranza è ridicolo significa molto semplicemente esprimere a proprio nome e certo per un generale non è semplice un'opinione che si sente che sento da quando sono nato nei peggiori bar del paese insomma che peraltro frequento abitualmente dovremmo riuscire secondo me corrado a a eliminare questa idea che si parla a nome della maggioranza della minoranza cioè nessuno sa come oggi il pensiero della maggioranza degli italiani sull'identità sessuale sull'autodeterminazione e sugli omosessuali e quindi ognuno faccia la cortesia di parlare a nome proprio senza alzare bandiere che non richieste cioè il bannacci pensa queste cose si firma col suo nome e le dice non ha il titolo non è titolare della maggior del pensiero della maggioranza del paese però tu dici quello è un paese vecchio no i nostri non si sa però è un paese che è corso ci sono è in cima alle classifiche la vendita del suo libro come te lo spieghi sei sorpreso oppure no? Beh perché c'è un sacco di gente di destra in questo paese c'è un sacco di gente che pensa che gli omosessuali non siano normali non abbiano neanche il diritto di esserlo oppure debbano farlo di nascosto voglio dire non è sorprendente questo vorrei dire non è una cosa non è una cosa che viveva sotto traccia io l'ho sempre vista l'ho sempre sentita avvertita con un'opinione fortemente presente nel nel paese e diventa molto fastidioso sostenere quella opinione come se si uscisse come dire da 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 un da una detenzione nella quale era impedito di dirlo ecco questo è profondamente scorretto e anche abbastanza ridicolo in molti metrapansè della nuova destra che ormai hanno tutti l'auto blu ma sembra che siano appena usciti dalle catacombe e questo non è elegante ecco questo non è proprio elegante se vannaccia ha qualcosa da dire contro contro i gay lo dica a nome proprio senza farci credere che sta combattendo una battaglia senti però però diciamo questo quale che l'ha mai impedito questo successo